Cioè nel video di oggi parliamo di frasi per rimorchiare una ragazza. Io sono Giorgio Di Lorenzo e questo è seduzionattrazione.com Quindi, esistono frasi per rimorchiare una ragazza? La risposta a questa domanda è assolutamente sì. Però prima lascia che ti dico una cosa per correttezza. Non importa quanto ti fai il culo a studiare frasi, cercare frasi, arricchire il tuo database di frasi prescriptate, creare frasi prescriptate, queste non saranno mai sufficienti. Perché gli script che ti puoi preparare in precedenza non saranno mai sufficienti per coprire ogni possibile scenario che può venirsi a creare all'interno di un'interazione umana. E questo significa in buona sostanza che nonostante tu possa assolutamente avere del materiale pronto, e questo ti possa dare una grossa mano, soprattutto all'inizio, non potrà mai sostituire al 100% il fatto che tu inizi a sviluppare calibrazione e intelligenza sociale. E neanche ti salverai il pensare, beh ma tanto non mi serve imparare il principio X che sta alla base di quella frase prescriptata, perché tanto ho la frase prescriptata e quindi non mi serve altro. Infatti se tu hai pensato una cosa del genere sei a un livello super principiante, quello che molto probabilmente accadrà è che tu semplicemente vomiterai addosso frasi studiate da te la memoria addosso alla ragazza nel momento sbagliato o con la delivery sbagliata, cioè come dici, quello che dici, in realtà queste risulteranno o inefficaci o dannose. E la prima cosa che tu vuoi capire è che se tu non hai la frase corretta per la situazione X sei praticamente fottuto se non capisci come funzionano i principi, mentre se tu capisci quelli che sono i principi, ok magari non te ne uscirai con qualcosa di così intelligente e arguto come una frase prescriptata per ovvi motivi, ma in ogni caso perlomeno riuscirai a dire qualcosa di pressappoco giusto. E in secondo luogo ti faccio una domanda. Cosa fai se la frase che hai già utilizzato in precedenza la devi riutilizzare ma non ha funzionato in primo luogo? Quindi contestualizziamolo un attimo. Cosa fai se la volta scorsa hai usato la frase X per portarla a casa e questa non ha funzionato? E a dire il vero questo è un finto problema perché in realtà tu non dovresti avere la frase X, ma la frase XYZ e compagnia cantante e questo ti permette di non fare così affidamento su una singola frase se questa non funziona, ma al tempo stesso vuoi capire che frasi prescriptate non possono salvarti il culo nel 100% dei casi. Quindi vediamo un attimo qualche esempio per contestualizzare un po' più il tutto. Durante un approccio, ad esempio, tu puoi approcciare di diretto, indiretto, indiretto su opinione e prepararti praticamente tutto a caso. Se invece per esempio la situazione richiede un approccio contestuale, devi necessariamente improvvisare. Quando invece, per esempio, sei in quella che è la fase, se mi segui sai perché vi ho detto la parola fase, di attrazione, ci sono diverse cose di nuovo che ti puoi preparare a casa. Prese per il culo su pattern ricorrenti, segnali misti, piuttosto che frasi per dequalificarti. Tutto questo viene spiegato nei miei corsi tecnici, fra parentesi. Per quanto riguarda la sfida, per esempio, che è un'altra tecnica molto efficace, che tu devi conoscere perché va a rompere un po' più quello che è il rapport, in realtà è un qualcosa che dobbiamo utilizzare necessariamente o quasi sempre in maniera contestuale. Infatti, per esempio, nel mio manuale per super principianti a trazione immediata, ti mostro questa tecnica solo tramite spezzoni sul campo, proprio perché bisogna dare la possibilità al tuo cervello di impararla in maniera contestuale. Puoi ad esempio prepararti, anche se, voglio dire, sarebbe meglio che tu a un certo punto diventi in grado di andare in freestyle, delle domande di qualificazione, cioè delle domande che ti servono per far vedere alla ragazza che è degli standard, che la stai filtrando, screenando. Puoi anche prepararti del materiale relativamente alle domande che le ragazze ti fanno in maniera ricorrente, perché puoi semplicemente migliorarlo, accorciarlo, aggiustarlo nella maniera che ti fa apparire più di valore possibile e diventare anche più efficace in quella che è la tua delivere. Inoltre, ci sono certe caratteristiche che le donne cercano negli uomini, quindi tu puoi prepararti, per esempio, delle storie che servono a trasmettere queste caratteristiche, così come puoi prepararti del materiale per rapport, proiezioni future, chi più ne ha più ne metta. Puoi trovare tutta questa roba sui miei corsi tecnici. E quindi, come vedi, c'è moltissimo lavoro che tu puoi fare in anticipo. Anche se ti consiglio, in maniera molto calda, di non prendere il fatto che tu puoi fare tanto lavoro in anticipo come una scusa e quindi metterti lì come un topo da biblioteca a scriptarti frasi in casa, ma seguire la regola del 90% pratica, 10% teoria. E ricorda, in ogni caso, che per quanto ti prepari in anticipo, non potrai essere coperto nel 100% delle situazioni. Per esempio, non puoi prepararti al 100%, e questo è solo un esempio, sulla conversazione. In quanto, se da un lato è vero che ci sono delle tue storie che puoi preparare, vuoi, come ti ho spiegato in tanti video, far sì che il focus sia principalmente su delay. E questo comporta che tu devi essere capace di andare in freestyle, così come insegno a fare tramite l'utilizzo di varie tecniche in Conversation Master. Inoltre, durante quelle che sono le tue interazioni, le ragazze ti testeranno, e quindi questo rende vitale che tu impari quelli che sono i principi per passare questi test. E' vero che alcuni test molto spesso si ripetono, e di conseguenza tu puoi, per esempio se sei un principiante, andare in bagno, prenderti una nota sul cellulare, o se in discoteca fare la stessa cosa, e puoi pensare a freddo a una risposta corretta da dare alla ragazza, o quantomeno pressa poco, corretta. E quindi puoi crearti un piccolo database pian piano, anche in maniera piuttosto veloce, se esci tanto a rimorchiare e praticare sul campo. Ma ciò nonostante, non ti copriranno mai al 100%, e questo è il motivo per cui è così importante imparare il principio per passare il test. Principi di cui parlo nel mio corso Insider Mind. Un'altra cosa che è molto difficile prescriptare in toto sono tutte quelle frasi che ricadono in quello che definisco controllo del frame, e ora qui questo video si sta facendo un po' lungo, quindi ti consiglio di andare a guardare i video gratuiti che ho girato su quelle che sono le tecniche di frame, controllo del frame, eccetera, eccetera. Ma in pratica quello che tu vuoi capire è che ogni interazione ha un sottotesto, e il sottotesto ideale è io, cioè tu, valgo più di te, valgo più della ragazza. Questo è il sottotesto che tu vuoi dare a quelle che sono le tue interazioni, per essere efficace sulla ragazza. E di conseguenza puoi sicuramente scriptarti qualcosa, perché, come ti spiego nel mio corso, tecniche di soluzioni avanzate, è meglio imporre questi frame noi per primi, piuttosto che aspettare che sia la ragazza a farlo. Del tipo, non sono quel tipo di ragazza, non sono una ragazza facile, guarda che non ti bacio, bla bla bla, eccetera. Ora, nonostante questo, e nonostante il fatto che, sì, su carta sarebbe bellissimo il fatto che sei sempre tu il primo a imporre quelli che sono i frame, nella realtà non sempre funziona così. E quindi di conseguenza devi diventare capace a conoscere quelli che sono i principi, che regolano il ribaltamento di un frame che viene imposto su di te, al fine di ribaltare i frame che la ragazza imporre su di te e uscire vincente in queste specie di scontri verbali. Ora, tutta questa roba, ragazzi, è spiegata nei miei corsi tecnici, e mi viene anche difficile darvi delle spiegazioni che siano esaurienti in un breve video YouTube. Però quello che tu vuoi capire è che non hai molte soluzioni. Sì, puoi prepararti qualcosa, sì, più ti prepari meglio è, ma in ogni caso devi essere in grado di mettere in moto il cervello e di ragionare anche per principi, e di essere in grado di operare in freestyle con quelli che sono i principi. Stop! Non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazzi approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Quindi clicca il link a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.